ANSA, Roma, 28-8, siamo arrivati spesso in avanti, poi non abbiamo concluso molto. Dobbiamo essere più intraprendenti ma arrivare spesso in avanti e concedere poco alla Roma, sono sintomi di grande maturità. Roberto Donadoni non vede tutto nero dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma. Dobbiamo essere più freddi in alcune situazioni, torniamo a casa senza punti, ma con la consapevolezza, che possiamo giocarcela anche contro le grandi, dice A Premium, era una gara difficile e lo sapevamo, abbiamo speso molto in questa settimana dal punto di vista fisico e abbiamo tenuto anche più della Roma. Dobbiamo già pensare al prossimo mat che sarà importantissimo. Perché solo 5 minuti concessi a destro? Non serve a nulla fare discorsi, ha giocato quei momenti perché Petkovic stava facendo una buona prestazione. Quando destro starà meglio, e dimostrerà di essere superiore e i suoi compagni di reparto giocherà di più.